Ciao a tutti, nel CipiMass di oggi facciamo insieme l'albero di Natale. Facciamo in tutti i sensi perché come vedete non ho un abete vero, un pupino vero, ma un albero di Natale montabile. Dopo avergli dato un po' di forma inizio subito con provare le lucine, non l'ho filmato ma questo è il risultato. Procedo poi con i lustrivi vari per dare un po' di lucentezza all'albero di Natale. E poi passo subito con le vere e proprie decorazioni. Essendo il nostro primo vero albero di Natale in questa casa ho dovuto prendere delle decorazioni dai miei genitori. Le uniche nuove che abbiamo comprato sono quelle a forma di funghetto. Tocco finale, i torroncini ungheresi. Sapete, è una tradizione della mia famiglia prendere all'albero anche i torroncini. Dopo aver filmato l'albero di Natale ci sono state delle piccole aggiunte che ho voluto comunque inserire perché mi sembravano carine in tema. La prima è il calendario dell'avvento che ha fatto appositamente mia madre e che ho appeso proprio vicino al nostro albero. Ho poi cercato di decorare le due mensole dei libri con delle lucine prese da Ikea e quelle con gli alberelli da Tiger e una decorazione con legnetti e pigne. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao!